un micro registratore ehi, mi torno domani, devo controllare il registro tu? si, e così sono quattro giorni di fila un iniettore? in enero si trattava di un po' già, quindi direi che posso il lavoro non manca, nel tempo invece si si, si, noi vediamo per il terzo insomma, ci stanno spennendo non abbastanza